ciao oggi faremo un video bellissimo che idee vi vengono ok allora facciamo faremo una sfida in verticale una challenge in verticale che piace tantissimo va bene io direi verticale cammino fino in fondo corro indietro tocco la compagna cammino e vercorro praticamente in verticale fino in fondo correndo indietro e per le più piccoline dovete aiutarle se scendono però dovete ricominciare eh sì se vi ti tengono cioè potete anche tenerla in due potete anche tenerla in due e no dai voi non scendete e allora se voi scendete e anche voi dovete ricominciare ok tutto chiaro considerato che tutto il giorno fate tutta la pedana non penso va bene perfetto le squadre cosa volete fare le stesse le stesse va bene ok pronte no no avete ragione chi inizia quindi iniziate voi allora fate la strategia mi raccomando via dai 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 vai corri dai 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 Ok vince questa prima manche la squadra di Sveva Prendete un attimo fiato Allora adesso una alla volta Sì sì Quando vuoi Dai 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 Fate il tifo Vai 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 Corri Dai 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 tifo 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 Dai 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 Corri corri Quanti secondi Giadi 36 secondi e 21 Pronta la squadra di Ginevra Quando vuoi Dai dai tifo vai 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 Ari Vai Ari vai 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 Bravissima via 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 Dai dai dà da isa da isa 40 e 33 per la squadra di gilli no un mito in verticale faceva troppo ridere bella la verticale così ma poi questo cosa fa? arriva di pancia e sta lì corri non mi fai cadere di pancia i soldati adesso sono a fine vince questa sfida la squadra di SVEVA! Speriamo che questo video vi sia piaciuto se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi nessuno del nostro nuovo video ciao 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 ciao